Ciao a tutti! Mi è stata segnalata un'operazione del 4 di agosto. Purtroppo Manuel non è riuscita ad inserirla per problemi tecnici dovuti all'aggiornamento del Rollbooster, però volevo farvela vedere perché ne valeva la pena. Questa operazione era davvero vincente. Questo ovviamente è la testa di strategia, ma è per farvi vedere l'evoluzione di quello che è accaduto di questa operazione. Allora qui faccio l'inserimento ovviamente di tutti i parametri, poi lancio il tester, accelero il video. Ecco l'entrata a mercato, poi ci va un po' contro, questa operazione doveva essere chiusa il 5 di agosto alle ore 19. In realtà non ci arriva perché viene chiusa prima la stock profit. in realtà non ci arriva. ecco, come potete vedere l'expert ha messo in stop profit a 90 di ROI e ha chiuso tutte le operazioni. Questo è il risultato ottenuto. Ecco, come potete vedere l'expert ha messo in stop profit a 90 di ROI e ha chiuso tutte le operazioni. Questo è il risultato ottenuto. Ora lancerò lo stesso test con un capitale più umano a 100 euro. ed ecco il risultato. 88 euro portati a casa. ed ecco ed ecco Grazie a tutti.